Musica Un tarato concreto e cinico ottiene la sua prima vittoria in trasferta della stagione sul neutro di Torre Annunziata Batte 3-1 la Putiolana, il tecnico la terza cambia, modulo di partenza e 4-4-2 con Stracquale Ursi dall'inizio Non ci sono a quadro e falcone, il resto è quello di sempre I rosso-blu in maglia bianca passano in vantaggio dopo pochi minuti dal calcio d'inizio Al terzo cross di boccia, testata velenosa di Sam Tarpia, pallone che si insacca, fil di palo, Putiolana 0-1 Al ventinovesimo c'è una solo di Lagziri, il marocchino va in slalom alla conclusione di sinistro Ma il pallone termina sull'esterno della rete Il pari dei Granata giunge nel momento inaspettato Al trentatresimo un'incursione di Piacente che trova l'ospitalio giusto in diagonale per battere Sposito ed è 1-1 C'è ancora qualche brivido nella prima frazione di gioco al trentasettesimo C'è un traversone di Stracquale Ursi dalla riga di fondo con Monte Leone che sfiora l'autogol Al quarantatresimo la Putiolana in contropiede sfiora il vantaggio Se ne va Derrico sulla corsia Mancina mette in mezzo un pallone per la corrente Festa che Di Piatone manda sul fondo C'è tempo ancora per Serafino che trova in area di rigore Rizzo Il difensore centrale svetta ma colpisce con la parte alta della fronte il pallone Termina alto, si va a riposo con il risultato di parità nella ripresa Il Taranto torna in vantaggio, fa le prove generali al terzo minuto Lagzir che scalda i guantoni di De Lucia Cinque minuti più tardi all'ottavo punizione violenta di Marsili Deviazione decisiva di Stracquale Ursi per l'argentino Prima rete in campionato ed è sua la firma Alla ventiseiesimo la Putiolana ci prova dalla distanza Ma la sventola di Soprano viene respinta da Sposito Il Taranto fissa il punteggio sul 3-1 Alla novantesimo punizione ancora di Capitan Marsili Sulla testa di Alphagame entrato in campo da poco Che firma il 3-1 finale